Finisce 1-1 tra San Giustese e Pineto al comunale di Villa San Filippo, un pari che sa di beffa per i locali raggiunti all'ultimo respiro e dopo aver fallito in coda al primo tempo un calcio di rigore. Ma la parità è risultato sostanzialmente giusto per quanto visto in campo, bene il Pineto a livello di gioco con l'ex Teramo Amadio padrone del centrocampo. La San Giustese ha saputo soffrire e concesso poco all'attacco del Pineto, alla fine però la formazione di mister Sedi Gagliesi non è riuscita a tenere una vittoria che sarebbe stato un ulteriore step in classifica. Ma San Giustese è da ammirare per la determinazione e la volontà nel cercare un risultato pieno. La cronaca del match San Giustese che deve fare a meno all'ultimo di Patrizzi sostituito da Camillucci, per il Pineto Tomassini presente tra le riserve. Al settimo il primo squillo della partita è del Pineto, gran botta da fuori di Cruz che trova la risposta di Chiodini. All'undicesimo ancora Pineto pericoloso, gran finta di festa che si libera dai due avversari ma al suo diagonale finisce al lato della porta difesa da Chiodini. Al quindicesimo primo acuto della San Giustese, cross al bolo di Pezzotti dove arriva Chedira ma la sua deviezione finisce alta della porta difesa da Madio. Trentaseesimo tiro diretto da calcio d'angolo di Moracci, palla alzata sopra la traversa da Madio. Pineto che tiene il pallino costante del gioco, San Giustese che fa fatica a ripartire in contropiede chiudendo però tutti gli spazi. Al quarantatresimo occasione per il Pineto, colpo di tacco di Ciarcelluti per Esposito il cui destro finisce alto sopra la traversa della porta difesa da Chiodini. E nel finale di tempo l'episodio che potrebbe cambiare il match, quarantaquattresimo calcio di rigore per la San Giustese, fallo in aria su Chedira. E rigore per i locali dal dischetto, incredibile errore di Cerone che prova lo scavetto ma Madio rimane fermo e neutralizza la conclusione con una mano. In quella che rimane l'ultima occasione dei primi 45 minuti di gioco. Ripresa che inizia quasi sulla falsariga del primo tempo, al dodicesimo tiro cross di Argento ma Madio non si fa sorprendere dalla traiettoria del pallone. Ventesimo occasione per il Pineto, gioca bene la squadra di Amaolo su cross tagliato, colpo di testa di Camplone, palla di poco a lato. Al trentatreesimo arriva il vantaggio della San Giustese, angolo di Moraci, palla che filtra in aria e deviazione vincente di Camillucci che non lascia scampo a Madio per l'1-0 locale. Il Pineto prova a reagire ma senza essere pericoloso, la San Giustese si compatta e chiude tutti i varchi cercando di non lasciare nessuno spazio. Ma alla fine, proprio all'ultimo respiro, arriva il pareggio del Pineto, quarantottesimo. Il cross teso di Amadio e Fratangelo appena entrati in campo trova la deviazione vincente che batte Chiodini per l'1-1 finale. Finisce così in parità con le recriminazioni dei locali per il successo sfumato in extremis e San Giustese ora si appresta domenica la trasversa storica a Cesena al Manuzzi. Mister Amaolo, allora, 1-1 qui contro la San Giustese, direi che al di là poi del gol arrivato all'ultimo secondo è un risultato sostanzialmente giusto per quello che si è visto. Beh direi proprio di sì, perdere questa partita per noi era un risultato che non meritavamo perché ha fatto un'ottima prestazione secondo me perché abbiamo posto anche il nostro gioco, il palleggio a una squadra che predilice questo tipo di situazione. E poi abbiamo sfilato il gol in diverse circostanze, 3-4 opportunità, l'abbiamo avuta in modo, non dico clamoroso, ma molto pericolosi. Perdi una partita di questo tipo su un episodio, su un calcio d'angolo, era difficile da accettare. Però riguardo le prestazioni d'arche 90 minuti, quindi il risultato è giusto di un pareggio che l'abbiamo ampiamente meritato. Forse è mancato un po' di incisività in attacco, non tanto possesso palla. Sì, però le tra quattro opportunità importanti, ne ricordo due o tre clamorose con Festa che ha tirato in diagonale a botta sicura e il colpo di testa di Camplone nel secondo tempo, quello di Esposito che ha sfilato un paio di situazioni e abbiamo tirato diversi calcio d'angolo, quindi c'è stata pressione, siamo arrivati in prossimità della squadra avversaria tramite trame di gioco fatte con coordinazione, quindi la squadra secondo me si è espressa molto bene. Sicuramente dobbiamo essere un po' più incestivi e cattivi sotto porta. Mister Senigallesi, allora, rimane Lamaro in bocca per questo pareggio arrivato all'ultimo respiro, però per come si è visto la partita, come ha giocato anche il Pineto, direi che il pareggio è giusto. Allora, parto da una cosa diversa. Intanto complimenti ai ragazzi della San Giustese, perché con tutti gli incerrottamenti, le difficoltà, Patrizio infortunato prima dell'inizio della partita, le tantissime difficoltà, per me hanno fatto una prestazione sopra le righe, per tenuta, perché volevamo fare una partita diversa, abbiamo scelto di fare una partita diversa perché avevamo il dubbio di non arrivare alla fine contro una squadra molto, molto fisica e molto, molto forte. Se avessimo vinto sarebbe stato il coronamento di uno spirito di gruppo e una mentalità straordinaria. L'analisi della partita ci può stare giustamente il pareggio, però è chiaro che rimane Lamaro in bocca perché è all'ultimo secondo, credo, quindi era finita la partita, a dire il vero. Anche per quel rigore, no? Poi sciupato nel primo tempo? E questo sì, ci poteva dare un vantaggio in più, insomma noi ne abbiamo avuto situazioni particolari, però mi interessa poco la prestazione, quella che conta, è fatta da squadra strepitosa. La conferma di un trend è davvero positivo, anche giocando così a distanza di pochi giorni? Sì, sì, è tenuta mentale, è un gruppo unico, lo dico da tantissimo tempo, probabilmente irripetibile, non so se avrò mai più la fortuna di allenare un gruppo di ragazzi così bravi, qualitativi, intelligenti, disponibili e oggi meritavano di vincere per questo, non tanto per il discorso tecnico-tattico ma proprio per la tenuta mentale.